buongiorno mosè praticamente non ti vedo mai da ieri notte che non ti vedo mau mau si amore è tanto caldo perché ti piace stare sui sassi senti come sei caldo che sei nero sei caldo almeno vai sul cuscino vai sulle sedie vai un po sulle sedie è il tuo cuscino dai io non posso venire adesso perché c'è il nonnino che mangia a casa mia tu sei uscito potevi anche fargli un po di compagnia il nonnino però lui vuole che io stia qui con lui ti piace stare nei sassi ecco il piede col cemento guarda guarda quel piede qua qui c'è un po di cemento è pelo guarda il piede col cemento qua questo cemento no è pelo grigio perché sei invecchiato c'è i zampini grigi poi si è invecchiato che non hai neanche nove anni perché i gatti neri si sbiadiscono ma proprio sbiadittino ma sei sbiadito come facciamo ti metti lavatrice col nero col color senti ma non fai altro che lavarti è una mania questa è una mania è una vera mania questa signore e signori la mania dei piedi puliti ma un piedino grigio cosa cominci da qui e poi diventi tutto grigio diventi tutto grigio si pulisce anche me perché hai ragione pulisce anche le zampine della mamie dai senti devo andare dal nonnino lui vorrebbe che io stessi qui il nonnino in casa dai non posso lasciarlo da solo dopo ripassiamo di qui